GG 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 Me la sentivo Me la sentivo È come uno m**** per tipo due mesi e mezzo, sì Diviene Angela, è caduta dell'angiolo dopo dieci minuti Blocchiamo security, blocchiamo electrical e saliamo su No no no, cerco di giocare la meglio possibile 025, non fatemi parlare, non fatemi parlare cazzo Che la trollo subito poi se parlo 025, gli sparo tutti tutti 025 Non è il fazzone Vogliamo chiudere voglio un attimo Ok però c'è in security E secondo voi con chi cazzo mi devono mettere dopo 28 game che non sto giocando da impostore Con chi cazzo mi devono mettere Ditemi con chi cazzo mi devono mettere E' incredibile Oppela là oppela là Oppela là oppela là Ma ho 1v8 Mi tocca giocare 1v8 Cioè è incredibile 1v8 Guarda se non te la giochi bene da coso impazzisco Impazzisco Aspetta 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 Porco Ah sì Lo scorso game sai quante volte di fila stavo a fuck you mate 28 28 I sospetti su quell'uomo li abbiamo ma non dobbiamo stargli vicino Ladies and gentlemen We got him Ma che cazzo è voglio il piu Da Dammi il piu No non mi dà più il piu No non mi dà più il piu Piu Oh Piu 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 Ah sì sì volevi chiamarlo eh Ma vaffanculo l'ha presa C'era Pua da solo C'era Pua da solo ha preso la venta Ma tu sei l'incoglionito Chi è che stava Chiama 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 Indovina Indovina Chiama chiama Andavo per chiamare il pulsante E dietro di me c'era Pua Dietro di Vado a fare la carta in admin C'era Pua Ma ho detto sono uscito dalla bottola Senta che si apre Pua morto e lui che va a schiacciare il pulsante Pua morto in admin perché Pua è andato a far la call Era al centro Era in caffetteria Pua No no Pua stava in admin E' arrivato fino in Caffetteria Vabbè a dire Sei un rincoglionito Ha detto E' uscito da un po' E' andato le borse E' l'altro E' l'altro secondo le contro precedenti Allora è clare Impazzisco Impazzisco Ma è morto in caffetteria Non l'ho visto Siamo a 10 campioni E siamo a 10 Sono proprio quelle 10 partite del cazzo Eh per fortuna a me non esco e funziona stasera Va a fanculo Mi porto a zella da solo Guarda Aiuto ti prego aiuto aiuto C'è Zach C'è Zach Zach uccidimi qui Anzi qui sopra Zach uccidimi qui Zach uccidimi qui E' anto E' anto E' anto E' anto Vero è proprio anto Mi voglio mangiare un coglione di toro No Si Mi l'ha finito di puntata Che è quello rosa Io quello giallo Qualcun Oh Fido il suo Guarda 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 Oh sì! Oh sì, sono proprio io! Mamma! Oh, bacco! Vabbè. Metagaming. Deluxe, we are coming. Ma dove cazzo, Wenna? A stupido. We are coming for you, Lelo. A stupido. Ma ha quitato? Non ci ho fatto caso, scusate. Ha quitato? Ti ha abbandonato solo motore. Però non se la deve prendere il motore. Cioè, bisogna prendere le cose con filosofia, ma soprattutto autoironia. Prendi, ad esempio, Deluxe. Un bambino. All'inizio, inizio, inizio. Però, regali, io non posso dire Deluxe, we are coming for you e muore Deluxe. Ma no, dammit, no. C'è, regali, è pure cattiveria, zia. C'è, però, dai, onze, va. Non è puzzanto, eh. Oh, sto a dire. Scusami, credo di non aver capito. No, proprio, credo di non aver capito. Credo di non aver capito. Ehi, programmatori di Among Us, mi spiegate gentilmente com'è possibile che questa cosa avvenga? C'erano circa dieci passi tra me e lui. Guardate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Che tipo di magia ha applicato quest'uomo? Ditecelo voi. Pazzi, io mi nascondo. Io mi nascondo. Qua non mi prende nessuno. Non mi... Diva di merda! Anto è sempre ovunque. È incredibile. Guarda, guarda qui. Tua madre, tua madre, Anto. Come andrà a fare le bibite così non mi rompono i coglioni? Quando sono qui, di solito non arriva nessuno. Sì, raga, è il viola. È il viola. È il viga. È il viga. Mi ha due fila in fatto. Ma io ero con te, Lu. Ma io ero con te, Lu. Oye, ma la nozzacagnata. Ma io ero con te, Lu. Fatemi fare la mia cu... Fatemi fare la mia cu... In flouri, io ero con te... Sii un bel Grazie a tutti.